Con la nuova Scenic beneficerete del know-how Renault relativo alla sicurezza passiva. La valutazione di 5 stelle nei test Euro NCAP 2016 è l'obiettivo maggiormente pubblicizzato dal produttore. Il cofano, i paraurti e i fari sono progettati per garantire la migliore protezione ai pedoni in caso di urto. Anteriormente avete a disposizione la massima protezione offerta dalla sicurezza passiva, ovvero due airbag anteriori, due airbag laterali a livello di testa e torace e due airbag a tendina. Questo equipaggiamento è completato dalle cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di sforzo e poggiatesta con funzione anticolpo di frusta. Posteriormente sono presenti le cinture di sicurezza con limitatori di sforzo. I sedili laterali sono dotati di fissaggio Isofix con tre punti di ancoraggio.